Non c'era l'uomo, 15, 15 Ciao mamma 6, 2, 1, go Matteo Mi dici quando si avvicina perché non vedo Non vedo Non si è scritto Non vedete per 5 5, dai 2, 1, go Bravo Robby Bravo Grande, bravo Robby Grande Robby 3, 42 3, 30 3, 42 3, 42 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1.33 1.10 Dai Roby, dai dai. Un minuto. 6, 7, 8, 10. 10. Bravo. 45 secondi dai che li chiudi questi dai Roby riparti 30 secondi dai Roby 20 secondi dai riparti Roby dai 15 secondi dai 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 9 dai 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 5 vai l'ultimo dai Roby grande